La poliedrica cultura di Poggio Bracciolini ci rivela, tra le altre cose, come la cultura umanistica non si esaurisca semplicemente nello studio delle umane littere, nell'interesse filologico e per la ricostruzione dei codici, ma vada spaziando in un ambito assai più vasto e multiforme. Poggio Bracciolini, vissuto tra il 1380 e il 1459, rappresenta sotto questo aspetto la figura dell'intellettuale rinascimentale a 360 gradi. Possiamo dire che egli viaggia in lungo e in largo per l'Europa e con i suoi viaggi attraverso le biblioteche monastiche italiane e tedesche riporta alla luce opere importantissime di autori come Quintiliano, Vitruvio, Lucrezio, Stazio, Ammiano Marcellino e di molti altri testi, tra cui alcuni testi ciceroniani. Insomma, una prima parte dell'importanza dell'opera e della figura di Poggio Bracciolini sta nella sua importantissima opera di scopritore di testi che vengono restituiti all'umanità mediante le sue scoperte nelle biblioteche. Inoltre, con il costante confronto con le differenti redazioni, con tecniche filologiche davvero raffinate, viene ricostruendo Poggio Bracciolini i testi e li restituisce alla loro forma originaria. Quindi vi è una parte del lavoro di Poggio Bracciolini che si orienta in direzione filologica, la restituzione dei testi importanti. Ma Bracciolini sarebbe assai ingiusto relegarlo a questa dimensione esclusiva che pure è presente e importante nel suo operato. Oltre a ciò, infatti, egli rivela di essere anche un buon letterato. I suoi viaggi, le sue scoperte, sono vivacemente descritti nelle lettere, dove l'esaltazione dei classici si intreccia fecondamente con l'esaltazione delle virtù umane dell'impegno civile. Il suo epistolario rappresenta sotto questo riguardo una delle migliori espressioni della letteratura latina del Quattrocento. L'epistola viene innalzata nuovamente a genere letterario, come era ad esempio in Cicerone o come era anche in Seneca, le lettere morali a Lucilio, pensiamo, e diventa in qualche modo un modello letterario di primaria importanza. Viene concepita essa stessa in vista della propria pubblicazione. Vero è, come dicevamo, che larga parte della propria vita, Poggio Bracciolini la consacra ai viaggi e alle scoperte filologiche, ma non di meno non può la sua figura essere risolta in quella dell'erudito che vive nella Turrisseburnia dello studio, matto e disperatissimo, a distanza siderale dal mondo e delle sue vicende. Al contrario, Poggio Bracciolini celebra senza posa le virtù umane che si rafforzano nel rapporto tra l'uomo e l'ambiente, tra l'uomo e la dimensione sociale. In particolare vi è un'ampia riflessione che Poggio Bracciolini viene sviluppando intorno ai temi sociali e politici e trova un importante sbocco nel dialogo intitolato De Avarizia del 1429, dove troviamo una prima valorizzazione aperta del danaro come fondamento della società. Quindi Poggio Bracciolini sotto questo riguardo propone un recupero delle umane littere, ma al tempo stesso si distanzia dalla tradizione aristotelica e platonica, classica in generale, e valorizza l'Avarizia intesa come fondamento delle istituzioni politiche e anche di quello che oggi chiameremmo progresso. In particolare questo è il tema al centro De Avarizia, come dicevo, ma non è solo questa l'opera di Bracciolini che deve essere letta e interpretata. Un'importante sua opera si intitola La liberazione dei classici dagli ergastoli dei Germani, ed è di fatto l'epistola scritta all'amico Guarino veronese il 16 dicembre 1416, forse l'epistola più famosa di tutto il 400, dove infatti Bracciolini mette a tema l'entusiasmo fervente che lo colse quando riuscì a disseppellire il mondo antico, scoprendo testi, documenti, opere d'arti, insomma con quella febbre di entusiasmo dell'uomo rinascimentale che riporta in vita il mondo classico dopo la scissione medievale, la lunga notte tempestosa del Medioevo, per dirla con Hegel. Quindi insomma c'è una sorta di celebrazione anche del proprio operato, di filologo e di scopritore dei testi classici, e questa riscoperta rinascimentale del mondo classico viene vissuta da Poggio Bracciolini come un atto di liberazione umana, per questo l'opera si intitola la liberazione dei classici dagli ergastoli dei germani. Insomma viene liberata l'umanità grazie alla liberazione dei testi classici che erano imprigionati e non disponibili. Bracciolini è anche un grande teorico dell'oratoria, non per caso riscopre le istituzioni oratorie di Quintiliano e valorizza di fatto la conoscenza dei classici e anche la loro riattualizzazione. Nella lettera al guarino veronese già citata si evince quanto segue, cito direttamente dal testo di Bracciolini, qualcosa infatti potrebbe essere in nome di Dio più lieta, più gradita, più accetta a te agli uomini dottissimi quanto la conoscenza di quelle opere, con l'uso delle quali noi diventiamo più dotti, e ciò che è considerato un bene anche maggiore, più eleganti, ecco quindi una sorta di commovente entusiasmo con il quale Bracciolini dice che discoprendo gli antichi noi diventiamo più eleganti, più dotti, ci ricolleghiamo a quella grande tradizione. C'è un amore per l'eloquio che passa anche dalla riscoperta di Quintiliano naturalmente e Bracciolini ci parla di un quintiliano prigioniero in questi ergastoli barbari come lo chiama, di un quintiliano triste, in abito luttuoso come sollevano essere i condannati a morte, quindi la liberazione dell'umanità attraverso la liberazione dei classici passa anche dalla liberazione di Quintiliano, il maestro dell'oratorio, l'autore delle istituzioni oratorie. Citavo poc'anzi anche il De Avarizia, un testo importante che è un elogio dell'avidità, davvero un caso unico che rompe una tradizione collaudata di critica spietata dell'avidità. In questo testo troviamo forse il primo vero elogio del capitalismo in stato nascendi, sì perché Bracciolini celebra la virtù che più si attaglia al capitalismo, quella su cui il capitalismo stesso si fonda, l'idea della pulsione acquisitiva, della sete di ricchezza, la sete che porta l'individuo a voler avere di più, ad acquisire, ad accumulare, a produrre ricchezza. Dice Poggio Bracciolini che è assurdo disprezzare l'avidità, da che, scrive, puoi indagare su qualunque attività intellettuale o manuale e niente, troverai che sia immune da una notevole avidità. Il denaro stesso, spiega Bracciolini, come aveva già sostenuto Aristotele, non va in sé disprezzato, da che senza il denaro non si potrebbero praticare i commerci, non si potrebbero effettuare gli scambi tra gli uomini. E poi, spiega ancora Bracciolini, disprezzare l'avidità è assurdo, da che in essa si può ravvisare la molla essenziale delle azioni umane, per non dire poi la base ultima sul quale si costruisce il consorzio degli uomini. Insomma, la società per Bracciolini, che già delinea una società protocapitalistica, è una società retta dai commerci, è una società di relazioni commerciali che uniscono gli uomini. Secondo Bracciolini, in realtà noi siamo avidi per nature, quindi l'operazione teorica di Bracciolini sta nel naturalizzare questa virtù, se vogliamo appellarla così. Noi siamo avidi per natura, sicché l'avidità non è altro che assecondare la nostra stessa natura. Infatti, dice Bracciolini, cosa vuol dire essere avidi? Desiderare più del necessario, come già aveva insegnato Agostino, ma se così è, allora tutti siamo avidi per natura. Non troverai da nessuna parte al mondo qualcuno che non voglia più del necessario. Se poi tutti cessassero di fare ciò che oltrepassa la loro semplice necessità, allora si sarebbe eo ipso costretti, dice Bracciolini, a coltivare tutti la terra, perché infatti nessuno produrrebbe più di quanto non gli fosse necessario. La carità stessa, dice Bracciolini, che è uno dei principali valori cristiani, non potrebbe più praticarsi. Nessuno infatti potrebbe più essere liberale e generoso, da che non sarebbe più possibile dare agli altri non avendo nulla di superfluo, nulla in più. Sicché, dice Bracciolini, l'avidità deve essere rivalutata perché è parte della nostra natura ed è ciò che rende possibile l'umana società, la carità stessa come virtù cristiana. E dice ancora, con una frase a effetto Bracciolini, che se si dovesse realmente mettere al bando l'avidità dalle città e cacciare tutti gli avidi, allora le città, dice Bracciolini, rimarrebbero integralmente deserte.